non c'è più niente da fare ma è stato bello sognare ora veramente basta basta mi avete ci avete rotti i coglioni avete veramente stancato avete veramente rotto le palle ci siete andati nelle palle siete delle merde ma proprio adesso veramente colpa di debor colpa di quello che vi pare avete veramente stancato avete rotti i coglioni non vi sopportiamo più siamo fuori anche dall europa league inutile che dita ancora matematicamente no siamo fuori dall europa league avete rotti i coglioni merda c'è delle merda c'è degli indegni guardate non so più veramente che per di oggi mi era stato ranocchia quindi veramente vuol dire che il disastro c'è il disastro il mio è stato ranocchia fate schifo fate cagare non meritate di indossare quella maglia che poi è una maglia di merda ma non la meritate di indossare mille tifosi cioè per voi c'erano 800 tifosi da milano 800 non vi fate schifo ma non vi fate un po schifo 800 tifosi per voi per voi nonostante siete in zona retrocessione in campionato stiamo a fare schifo un europa league so vero di un 800 per voi e avete visto che prestazione ma l'avete vista ma non vi sentite un po sporchi d'animo non vi sentite un po non vi vergognate un pochetto ma un pochetto non vi vergognate un po e un po non vi vergognate fate schifo vergognate fate schifo merde merde umane guardate vi odio vi odio con tutto me stesso ora veramente basta perché ora avete proprio rotti i coglioni avete proprio stancato non ve sopportamo più chi non ha le palle da scendere in campo fuori dai coglioni chiunque chiunque chi non ha voglia di giocare fuori dai coglioni adesso non ci vuole l'esperto de calcio non ci vuole quello che sa de calcio non ci vuole sta gente ci vuole un allenatore che gli spacca il culo che gli mena che li frusta ci vuole un allenatore con le palle che anche al miranda detourne comunque uno dei big lo frusta un allenatore coi coglioni guardate io non so proprio quanto verrà lungo sto video perché non sai ma che devi di ma che c'è da di ma che c'è da di ma che c'è da di tamede fa tante visualizzazioni per i soldi non me ne fotte un cazzo non me ne fotte un cazzo io non spreco tempo per queste merde perché sono veramente delle merde sono delle merde umane io ho finito le parole raga veramente ho finito le parole non mi voglio più sfogare come facevo altre volte perché se no ma finì sempre peggio io però ve odio veramente io una squadra mi stava sul cazzo eccetera quando è ora è ora che allo stadio rintona quel coro siete una squadra di merda ci avete rotti i coglioni veniamo coi bastoni perché questo è quello che vi meritate c'è gente che prende 5 milioni al anno 2 milioni al anno ma che questi giocatori ma c'è squadra di serie c giocatori che prendono molto ma molto meno e giocano molto molto meglio fate schifo vergognatevi merde si è delle merde e basta veramente guarda io non so più che di non so più che di ci sentimo al prossimo video me dispiace guarda mi dispiace veramente tanto mi dispiace perché non ce lo meritamo non ce lo meritamo raga ci vediamo al prossimo video bella non c'è più niente da fare ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te grazie a tutti